E la chiamano estate, questa estate senza te. Era il 1967, Bruno Martino riempiva i jukeboxi tutta Italia con questa bella canzone, che potrebbe diventare però amara, dal momento che potrebbe essere un'estate senza sport, o perlomeno senza basket, quella che attende tifosi erpini. Le oramai famose, anzi famigerate, vicende che hanno coinvolto la Sidigas, travolgendo sportivamente sia Vellino Calcio che Scandone, stanno preoccupando non poco tutti quelli che a questi due mondi sono legati, sia affettivamente sia lavorativamente. Ognuno in questa vicenda, ne siamo certi, farà la sua parte, da De Cesare alle istituzioni, passando per gli imprenditori che eventualmente volessero rilevare le società. Sono tanti, tantissimi gli interrogativi che, però, attanagliano chi ha letto, sentito, visto le vicende quasi surreali degli ultimi giorni. È possibile che De Cesare non sapesse nulla, o sottovalutasse a tal punto la vicenda con Leni, da lanciarsi appena un anno fa in una campagna acquisti faraonica per la Scandone ed impegnarsi nel mondo del calcio con cifre importanti per la Serie D? Perché festeggiare su uno yacht appena un mese fa, quando la situazione non era così tranquilla? Perché ora questo silenzio assordante, quando basterebbero due parole a chiarire la situazione ai tifosi e, soprattutto, a potenziali compratori delle due società? Su quest'ultimo punto, in particolare, per onestà intellettuale, ci sentiamo di dire qualcosa. Voler cedere le due società è un atto di responsabilità che fa onore a De Cesare, protagonista nel bene e nel male nei due sport, soprattutto degli ultimi anni della pallacanestro. Volerle cedere per forza insieme ci sembra una boutade di quelle che si vedono recitate nei tendoni del circo da artisti inequivocabilmente vestiti. Se è vero, come è plausibile che sia, che calcio e basket hanno due bilanci nettamente diversi, soprattutto sotto la voce debiti, di qualunque natura essi siano, volerle cedere insieme è come costringere l'acquirente di un bel appartamento sul mare ad accollarsi le spese di un castello diroccato. Chi comprerebbe quell'appartamento? Allora forse c'è la semplice volontà di non vendere, ma solo di svalutare il castello diroccato, segnatamente la scandone, perché non più in grado di sostenerne le spese. Noi confidiamo una soluzione positiva per tutti, a partire dai dipendenti delle società coinvolte nella vicenda, ma a De Cesare riteniamo di poter dire che, in caso di mancata vendita a queste condizioni, la responsabilità di eventuali fallimenti non è e non potrà mai essere di chi non ha comprato, ma solo e soltanto di chi non ha voluto vendere in maniera corretta. Fare un passo indietro, senza sé e senza ma, è un atto di responsabilità, come dicevamo, soprattutto nei confronti dei dipendenti. Non è una sconfitta per De Cesare e non è certo ingratitudine nei suoi confronti. Un certo Berlusconi ha dovuto lasciare una certa società che si chiama Milan, quando le condizioni non erano più favorevoli. Pensiamo che, ripetiamo, senza sé e senza ma si possa assolutamente fare lo stesso nell'interesse di tutti. Ma ora basta silenzio. A De Cesare chiediamo di parlare chiaramente, magari in conferenza stampa, rendendo chiaro e trasparente ciò che, affidato solo al commento dei social, sta diventando torbido e viscido.